Un anno scolastico si è appena concluso, l'amministrazione provinciale con l'assessore alla edilizia Francesco Ruscelli fa il punto per quanto riguarda la scuola. Patto di stabilità, tagli, la situazione è molto complicata e la provincia si sente sola. È stato un anno molto complicato il 2010 e anche il 2011 non è da meno. L'irrigidimento dei vincoli del patto di stabilità che hanno ridotto fortemente la possibilità di effettuare pagamenti per gli enti locali ed anche quindi per la provincia di Arezzo è stata rilevante. Basta ricordare che nel giro di pochi anni la nostra possibilità di effettuare pagamenti è stata ridotta da 40 milioni di euro nel 2008 a 30 milioni di euro circa nel 2009, a 20 nel 2010 e a, ahimè, solo 15 nel 2011. Questo rende molto difficile coordinare le politiche degli investimenti e soprattutto pianificare in modo pluriennale. A questo si è aggiunto il taglio dei trasferimenti agli enti locali che ha penalizzato la provincia per circa 7 milioni di euro e che ha quindi anche stravolto un po' tutti i nostri piani. Qualcosa si sta muovendo, noi l'attendiamo con ansia perché se come sembra dalla discussione parlamentare anche sulla fiducia al governo di questi giorni verrà finalmente, noi lo chiediamo d'altronde da 5 anni, sbloccato il patto di stabilità in parte e permesso agli enti locali virtuosi che hanno risorse ferme di poterle utilizzare, sono convinto che potremo ripartire con una stagione di investimenti in questo territorio, sull'edilizia scolastica sicuramente in modo particolare, ma anche su tutti gli altri settori, che è al pari di quella straordinaria che abbiamo avuto in questi ultimi 10 anni, perché siamo in condizione di poterlo fare. Ecco, un'ultima battuta. C'è anche un problema di manutenzioni e di risorse da trovare immediatamente. E qui il problema è ancora più grave, vorrei dire. Sì, perché l'effetto dei tagli di 7 milioni di euro sulla parte corrente hanno determinato una drastica riduzione dell'86% rispetto alla media 2004-2009 delle risorse a disposizione per fare le piccole manutenzioni, che è un grande problema. Noi abbiamo 75 edifici scolastici che vengono frequentati da circa 15.000 studenti ogni giorno. Le scuole sono i luoghi dove i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo nell'arco della giornata. Non possono essere queste scuole trattate dallo Stato, che ha il dovere attraverso una legge dello Stato, la 23 del 96, di compartecipare all'edilizia scolastica con risorse statali, di non farlo. Dal 2004, noi non vediamo un euro, è arrivato il momento che alle parole seguono i fatti e finalmente venga rifinanziata la legge 23 del 96, allentato il patto di stabilità e finalmente si ponga la scuola, non solo ma anche l'edilizia scolastica, al centro delle politiche di questo Paese.